Bentornati, appena terminata la partita tra noi oratorio e Black 8 con un risultato di 1 a 6 per i Black 8. Qui siamo con due rappresentanti della squadra vincitrice, presentati. Gennaro Maggione. Ernesto Vitello. Allora ragazzi, complimenti per la vittoria, siete stati bravissimi, ve l'aspettavate? Siamo molto bravi, la squadra già l'abbiamo incontrata nel girone e l'abbiamo vinto. Quindi è la seconda volta che vincete con voi? La seconda volta, sì. Un commento tecnico della partita? Facciamo girare molto palla, siamo molto bravi tecnicamente, un po' egoisti grazie al risultato perché stavamo vincendo di 6 a 1. E invece cosa vi manca ancora? Niente, non ci manca niente. Siete perfetti, quindi puntate a vincere questo torneo. Vincerete? Sì. Secondo te vincerete? Sì, spero di sì. Allora, hanno segnato De Crescenzo, Suarino, Guarino e Maione. Tu a chi li vuoi dedicare i gol? Uno al portiere avversario, Buondonno, no Matrone. E un altro ai miei amici di Maudone. Tu hai segnato? No. No. A chi dedichi la vittoria? A tutta la squadra. Bravi. Ok ragazzi, allora complimenti, ci vediamo la prossima volta. Un saluto da Maverick.